la signorina paris maupassant me ne stavo seduto sul molo del piccolo porto di obernon presso il villaggio della salis per contemplare antiba il calar del sole mai avevo visto un panorama bello e sorprendente come quello la cittadina chiuse entro massicce mura costruite dal signor Vauban avanzava nel mare aperto in mezzo all'immenso golfo di Nizza l'alta ondata del largo veniva a frangersi ai suoi piedi avvolgendola in un fiore di spuma al di sopra dei bastioni si vedevano le une sulle altre arrampicarsi le case fino alle due torri dritte nel cielo come due corna di un elmo antico e si disegnavano quelle due torri sul latte o biancore delle alpi sull'enorme e lontana muraglia di neve che sbarrava l'intero orizzonte fra la bianca spuma ai piedi delle mura e la neve bianca ai limiti del cielo la piccola città smagliante urgentesi sullo sfondo azzurrino delle prime montagne porgeva ai raggi del sole al tramonto una piramide di case dai tetti rossigni le cui facciate erano anch'esse bianche eppure così varie che sembrava contenessero tutte le sfumature in cielo stesso al di sopra delle alpi era di un azzurro quasi bianco come se la neve vi si fosse stemperata qualche nuvola d'argento vicinissima alle pallide cime e dall'altra parte del golfo nizza adagiata in riva all'acqua sembrava attesa come un filo bianco fra il mare e la montagna due grandi vele latine sospinte da una brezza forte pareva corressero sulle onde io stavo lì a contemplare pieno di meraviglia era uno di quegli spettacoli così belli così rari che penetrano in noi indelebili come rimembranze di felicità si vive si pensa si soffre si si commuove si ama attraverso lo sguardo chi è capace di sentire con gli occhi prova contemplando gli esseri e le cose lo stesso godimento acuto raffinato e profondo dell'uomo che dotato di un orecchio delicato e nervoso ha il cuore macerato di musica dissi al mio compagno il signor martini un meridionale puro sangue è questo certamente uno dei più rari spettacoli che si possano ammirare ho visto il monte saint michel mostruoso gioiello di granito emergere dalle sabbie a levar del sole ho visto nel sahara il lago rayene sergui lungo 50 chilometri risplendere sotto una luna che splendeva come da noi il sole ed esalare verso quella un bianco nembo simile a un fumo di latte ho visto nelle isole lipari il fantastico cratere di zolfo del vulcanello fiore raggiante che fuma e arde fiore smisurato giallo e sbocciato in un mare aperto che ha per gambo un vulcano ebbene nulla ho mai visto più sorprendente di antib eretta contro le alpi al tramonto del sole e non so perché antichi ricordi mi perseguitavano versi di omero mi tornavano a mente è una città del vecchio oriente questa una città dell'odissea è troia sebbene troia fosse lontana dal mare il signor martini trasse di tasca una guida sartì e lesse questa città fu in origine una colonia fondata dai focesi di marsiglia verso l'anno 340 avanti cristo da quelli ebbe il nome greco di antipolis ossia contro città la città dirimpetta un'altra perché infatti si trova opposta a nizza altra colonia marsigliese dopo la conquista delle gallie i romani fecero di antib un municipio i suoi abitanti godevano dei diritti di città romana sappiamo da un epigramma di marziale che ai suoi tempi e continuava io lo fermai poco importa quello che fu io vi dico che ho davanti agli occhi una città dell'odissea costa asiatica o costa europea le due rive si assomigliano e nessuna sull'altra sponda del mediterraneo desta in me al pari di questa il ricordo dei tempi eroici un rumore di passi mi fece volgere il capo una donna una donna alta, bruna passava nella strada che costeggia il mare e conduce verso il promontorio il signor martini accentando le finali mormorò la signora paris la conoscete? no, non sapevo nulla ma quel nome gettato lì quel nome da principe troiano diede una conferma al mio sogno e chiace tuttavia chi è la signora paris? parve soddisfatto vedendo che non conoscevo quella storia lo rassicurai che proprio non la conoscevo e guardavo la donna che l'aria sognante e il passo lento camminava senza vedersi come certo dovevano incedere le dame dell'antichità avrà avuto all'incirca 35 anni e si manteneva bella assai bella sebbene un po' grassa e il signor martini mi fece questo racconto la signora paris già signorina con Belombe aveva sposato l'anno che precedette la guerra del 70 il signor paris funzionario governativo era allora una bella ragazza altrettanto magrolina e allegra quanto poi diventò triste e grassa aveva accettato a malincuore il signor paris uno di quegli ometti con pancia e gambe corte che trotterellano in un paio di calzoni sempre troppo larghi dopo la guerra Antib fu occupata da un solo battaglione di linea al comando di jeanne de carmelaine giovane ufficiale decorato durante la campagna e che aveva allora allora raggiunto i quattro galloni annoiandosi a morte in quella fortezza in quella tana soffocante chiusa nella doppia cerchia delle enormi muraglie il maggiore andava spesso a passeggiare sul promontorio che è una specie di parco ventilato dalle brezze del largo là incontrò la signora paris che anch'essa vi andava nelle sere d'estate a respirare il fresco sotto gli alberi come avvenne che si innamorarono chi può saperlo si incontravano si guardavano ed è probabile che quando non si vedevano pensassero l'uno all'altro la figura della giovane donna dagli occhi neri dai capelli neri dalla carnagione pallida quella bella e fresca donna meridionale che apriva i denti al sorriso appariva insistentemente davanti agli occhi dell'ufficiale che continuava la sua passeggiata mordendo il sigaro invece di fumarlo mentre l'immagine dell'ufficiale stretto nella sua divisa coi calzoni rossi e i fregi d'oro i baffetti biondi arricciati sulle labbra doveva passare e ripassare la sera davanti agli occhi della signora paris quando il marito mal rasato e mal vestito corto di zampe e panciuto rincasava per la cena ripetendosi quegli incontri può darsi che nel rivedersi abbiano creduto di conoscersi certo è che lui le rivolse un saluto lei ne fu sorpresa e fece un inchino appena appena giusto quanto doveva per non essere scortese ma quindici giorni dopo gli rendeva il saluto di lontano prima ancora di trovarsi accanto a lui lui le parlò di che cosa? del tramonto è da credere e si misero ad ammirarlo insieme contemplandolo in fondo agli occhi l'uno dell'altra assai più che all'orizzonte e tutte le sere durante due settimane fu questo il costante banale pretesto per una conversazione di pochi minuti poi cominciarono a muovere qualche passo insieme intrattenendosi su argomenti qualsiasi ma già i loro occhi dicevano mille cose più intime quelle segrete e deliziose cose che si riflettono nella dolcezza nel turbamento dello sguardo e fanno battere il cuore perché l'anima vi si confessa meglio che in una dichiarazione infine è da credere egli prese nella sua mano la mano di lei e balbettò di quelle parole che la donna indovina senza aver l'aria di udirle e rimase florodonteso che si amavano senza che se lo fossero provato in alcun modo sensuale o violento quanto a lei sarebbe rimasta indefinitamente a quel punto della tenerezza ma lui lui voleva andare più avanti e si fece di giorno in giorno più ardente nell'insistere perché lei cedesse al suo violento desiderio lei resisteva non voleva saperne sembrava risoluta a non arrendersi ma una sera come per caso mio marito gli disse è partito di anzi per Marsiglia e ci resterà quattro giorni scende Carmelin le si gettò ai piedi supplicandola di aprirgli la porta di casa quella sera stessa verso le undici ma lei non gli diede ascolto e tornò a casa risentita il maggiore fu di cattivo umore per tutta la serata e il giorno seguente fin dall'alba andava su e giù per i bastioni dalla scuola di Tamburo alla scuola di Plotone distribuendo punizioni agli ufficiali e alla truppa come scagliasse sassi in mezzo a una folla ma rincasciato per colazione trovò sotto il tovagliolo in una busta chiusa queste parole questa sera alle dieci senza alcun motivo diede uno scudo al ragazzo che lo serviva la giornata sembrò molto lunga e la passò in gran parte a lisciarsi e a profumarsi proprio quando si metteva a tavola per il pranzo gli fu consegnata un'altra busta e dentro vi trovò questo telegramma mia cara affari conchiusi torno stasera treno ore nove paris il maggiore lasciò cadere una bestemmia così violenta che il ragazzo fece cadere la zuppiera sul pavimento che fare una cosa era certa che voleva averla quella sera stessa a qualunque costo e l'avrebbe avuta l'avrebbe avuta con qualunque mezzo anche a costo di far arrestare e imprigionare il marito e in un lampo un'idea folle gli attraversò la testa chiese un foglio e scrisse signora lui non rientrerà questa sera ve lo giuro e io sarò alle dieci dove voi sapete non temete nulla rispondo io di tutto sul mio onore di ufficiale jean de carmelin poi mandata a destinazione questa lettera pranzò tranquillamente verso le otto fece chiamare il capitano gribois suo secondo ufficiale gualcendo fra le dita il telegramma del signor Paris capitano gli disse ricevo qui un telegramma del quale mi è impossibile rivelarvi il contenuto fate immediatamente chiudere e piantonare le porte della città in modo che nessuno capito nessuno entri odesca prima delle sei del mattino farete anche circolare delle pattuglie nelle strade e ordinerete agli abitanti di rincasare alle nove chiunque sarà trovato dopo quel termine sarà ricondotto a casa sua manu militari ma se i vostri uomini mi incontrassero questa notte gireranno a largo facendo finta di non riconoscermi inteso bene sì signor maggiore vi rendo responsabile dell'esecuzione di questi ordini caro capitano sì signor maggiore volete un bicchierino di chatreuse volentieri signor maggiore brindarono bevero il giallo liquore e il capitano gribuò se ne andò il treno di marsiglia entrò in stazione alle nove precise depose sul marciapiede due viaggiatori e riprese la sua corsa verso Nizza uno dei due era alto e magro il signor Salib negoziante d'olio l'altro grasso e piccolino il signor Paris si misero in cammino uno accanto all'altro tenendo in mano ciascuno la sua valigetta per raggiungere la città distante un chilometro ma arrivati che furono all'ingresso del porto le sentinelle incrociarono le baionette ingiungendo loro di allontanarsi sorpresi sgomenti intontiti dallo stupore si appartarono per deliberare poi dopo essersi consigliati fra loro tornarono cautamente sui propri passi per parlamentare e dichiarare i loro nomi ma i soldati dovevano avere ordini severi perché minacciarono di sparare e i due viaggiatori atterriti scapparono a passo l'arribe paris le uomini prudenti non insistettero e se ne tornarono alla stazione a cercare un rifugio visto che il giro dei bastioni non era sicuro dopo il tramonto l'impiegato di servizio sorpreso e sonnolento diede loro il permesso di aspettare il giorno nella sala dei viaggiatori e lì rimasero fianco a fianco al buio sul canapè di velluto verde troppo spaventati per pensare a dormire la notte fu lunga per loro verso le sei e mezza seppero che le porte erano aperte e che finalmente era permesso di entrare ad Antib si misero in cammino ma le loro valigie abbandonate non le ritrovarono quando ancora un po' timorosi ebbero oltrepassata la porta della città il maggiore de Carmelin l'occhio stornione e i baffetti dritti venne in persona per riconoscerli e interrogarli poi li salutò garbatamente scusandosi di aver fatto loro passare una brutta notte ma erano ordini e aveva dovuto eseguirli gli animi ad Antib erano in subbuglio c'era chi parlava di una sorpresa tramata dagli italiani altri di uno sbarco del principe imperiale altri ancora credevano a un complotto orleanista solo più tardi si indovinò la verità quando si seppe che il battaglione veniva trasferito molto lontano e che il signor de Carmelin era stato severamente punito il signor Martini aveva finito di raccontare la signora Paris tornava indietro al termine della passeggiata passò vicino a me lo sguardo fisso sulle alpi le cui cime si coloravano ora di rosa sotto gli ultimi raggi del sole avevo voglia di salutarla quella povera donna che doveva pensare sempre a una notte d'amore così lontana all'uomo ardito che aveva usato per un suo bacio mettere una città in stato d'assedio e compromettere tutto il proprio avvenire oggi lui l'aveva probabilmente dimenticata a meno che non fosse solito raccontare dopo aver trincato quella burla tenera audace e glottesca lo aveva più visto lo amava ancora e pensavo ecco qui proprio un tratto dell'amore moderno comico e tuttavia eroico l'omero che cantasse questa Elena e l'avventura del suo Menelao dovrebbe avere l'anima di Paul de Coq eppure è valoroso temerario bello forte come Achille e più astuto di Ulisse l'eroe di questa povera signora Paris